Dopo aver studiato Michel Sage, morto nel 1931, parapsicologo francese, passato allo spiritismo dopo aver studiato le manifestazioni eccezionali della medium Leonor Piper, 1859-1950, sulla quale scrisse Madame Piper e la Société anglo-americaine pour les recherches psychiques, 1902 Commento La parapsicologia ha ceduto il passo ai fenomeni fisici del primo spiritismo e lo spiritismo ha ceduto il passo all'insegnamento dei maestri immateriali.